Ciao a tutti e benvenuti al Quick Lab su backup assist. Io sono Andrea Pernice e in ACAP mi occupo di backup assist e del supporto e in questo Quick Lab parleremo di backup assist 12 e di una problematica che ho analizzato insieme al produttore Cortex relativa alla, diciamo così, scarse prestazioni della replica file. Sicuramente qualcuno avrà notato qualche cambiamento dalla versione 11 o la versione 10 alla versione 12. Questo, diciamo così, è un esempio di come io affronto la problematica, i casi e quindi tutto è partito ovviamente da un caso di assistenza. Mi scrive un cliente segnalando problemi, ovviamente anomali di backup assist e mi solleva subito il fatto che backup assist 12 aveva delle prestazioni a dir poco disarmanti perché rispetto alla versione precedente lui diceva che il cambiamento era abissale. Io ovviamente inizio ho cercato di capire se c'erano delle motivazioni a livello di altri bacchi, ma non avendo altre casistiche ho valutato è più lento o è capace 12? No, casistiche non ne avevo, è un problema di prestazione effettivo o è un braco del prodotto? E quindi ho chiesto al cliente la diagnostica per fare un'analisi. Ovviamente lui inizialmente mi ha mandato subito il diagnostico di backup assist 12, in realtà 12.06, l'ultima versione, e poi proseguendo con il troubleshooting gli ho chiesto anche la situazione precedente, quindi se lui aveva altre installazioni dove il problema non era presente, quindi nel suo caso si parla di backup su NAS, ma in realtà il problema è generalizzato perché colpisce anche backup su disco, quindi in questo caso io ho ricevuto dal cliente massima collaborazione e mi ha fornito i dettagli, ponendomi anche il diagnostico della versione precedente che lui dava riscontro che effettivamente c'è un cambio di prestazione effettivo. Allora il troubleshooting inizia con l'analisi del diagnostico della 12.06 e qui si vede subito dei dati che Vegapass impiega per fare un backup di 167 GB su NAS, una replica di 269 file, impiega 9 ore e 3 minuti, circa 9 ore, replicandoli, in questo caso qua non è una replica, diciamo un backup full, ma è una replica, un aggiornamento dei dati, quindi lui in realtà non ha copiato i file, ma ha solo verificato e non ha copiato nulla, infatti vedete qua, dimensioni di file di quale non è necessaria una copia, in realtà lui non ha replicato, ma erano già dati presenti nel NAS e lui semplicemente ha verificato e poi mi ha aggiornato con la reportistica, quindi sicuramente c'è qualcosa che non va. Confrontiamola, e c'è ovviamente il backup access versione 10, il cliente mi ha inviato la diagnostica e io ho ricavato delle tempistiche notionalmente più basse, e questo sicuramente con uno di file anche leggermente diverso, però le tempistiche sono sicuramente diverse, 107 GB in 48 minuti, in questo caso qua si vede anche che non ha replicato i dati, però la situazione è diversa, quindi backup access 12 sicuramente aveva qualcosa che non andava. Comparazione, queste qui sono le tempistiche, ho fatto un calcolo, la versione 12 per fare un backup di 169 GB impiegava circa 9 ore, quindi sono 18,77 GB all'ora, invece la versione 10, 107 GB in 48 minuti, anche se non è una replica full, ma è semplicemente una sincronizzazione, lui stimato sono 133 GB al secondo, non è vero, però effettivamente lui si accorge che c'è i dati che sono già presenti, ma non mi fa perdere tempo, quindi il job si completa velocemente. La differenza ovviamente è 85% più veloce del backup access 10. A questo punto io mi informo del produttore Cortex, e Cortex mi fornisce effettivamente un'indicazione utile. La cosa da lentezza non è tanto un cambiamento del motore di backup assist, ma il fatto che backup assist nella versione 12 usa una gestione dell'integrità, quindi gestisce l'integrità del file, verifica ogni file backupato, se è integro, per utilizzarlo poi anche per il test di ripristino. E quindi questo test di ripristino va a impattare, diciamo la verifica dell'integrità va a impattare naturalmente nel backup dei dati, quindi nella replica dei dati. Quindi lui si crea per ogni file salvato nel backup un DB dove tiene tutto lo stato dell'integrità dei file. Infatti nella versione 12, nelle note di rilascio, lo indica che fa il test di integrità e poi fa anche il test di ripristino. E quindi questa era la motivazione. A questo punto uno si pone la domanda, ma allora a questo punto backup assist non può evitare di essere lento, quindi bisogna accettare così? No, il produttore ovviamente mi ha dato indicazioni su quali sono gli elementi che si possono disattivare. Diciamo che il test di ripristino è una funzionalità utilissima, però in alcuni casi si deve fare a meno perché ovviamente i tempi di backup diventano lunghissimi. Quindi cosa hanno fatto gli sviluppatori? Hanno inserito delle verifiche, delle chiavi di registro che possono essere disattivate e quindi si può disattivare l'intera funzionalità di backup dell'integrità dei file. Io posso ovviamente attivarlo e disattivarlo quando voglio. Però la disattivazione in questo caso è globale, non è specifica per un singolo job, ma per tutti i job. Quindi esiste una chiave di registro, questa qui è la chiave dove sono salvate le chiavi e questi qui sono i parametri da mettere in unità false per escludere l'integrità dei file. E quindi basta semplicemente creare queste chiavi e aggiungerle direttamente nel file di registro per bloccare la verifica dell'integrità. E quindi io ho passato questa informazione al cliente e lui mi ha dato effettivamente risposta positiva e confermandomi che il backup era naturalmente ritornato al valore standard, quindi alle prestazioni standard di backup assist di versioni precedenti. Quindi la soluzione di Cortex è valida. Cortex mi ha anche confermato che questa funzionalità poi verrà inserita nella console di backup assist per, diciamo così, nella versione 12.1. Quindi ci sono sicuramente motivi per farlo e quindi sarà poi prevista una funzionalità globale, quindi un parametro globale da inserire nella console di backup assist per poter agire, per ridurre, diciamo così, il degrado di prestazioni. Ovviamente il degrado, come ripeto, non si verifica solo sui NAS, ma anche sui dischi, perché cosa fa? Ogni volta che c'è un file a salvare, lui deve fare un check, un test di integrità, quindi probabilmente verifica la sorgente del file, verifica, farà un controllo MD5 del file, verifica se il file è integro, se è cambiato, e quindi questi test sono ovviamente impegnativi, anche se non è solo questione di CPU. Qui in questo caso è questione di fare attività di verifica diretta sul file, quindi tempi di accesso input-output sui file, oppure tempi di attesa per leggere i dati nella rete, e quindi i tempi sono notevoli e quindi il degrado è evidente. Con queste chiavi io praticamente sblocco la situazione e posso utilizzare il backup assist come era in precedenza. Eventualmente potrei fare un'attività di backup, fare un job di backup con tempi più lunghi per mantenere il controllo d'integrità, però diciamo così diventerebbe troppo impegnativo come soluzione. Quindi bisogna aspettarsi che Cortex si ingegni o trovino una soluzione per escludere eventualmente il controllo d'integrità, non solo globalmente, ma anche per singole cartelle oppure fare un'esclusione parziale. Vediamo adesso un attimo, vi faccio vedere solo la mia installazione. Queste qui sono le chiavi di registro che vengono modificate. Vediamo se ho anche... e questo qua è una cartella dove non c'è il file è un file all'interno delle cartelle dove lui salva lo stato. Lanciamo semplicemente, togliamo via tutte le chiavi. facciamo il backup fai vedere quali sono i parametri e lui va a salvare un file file db e sto facendo la replica su una cartella di rete solo per farvi vedere il file che lui vuoi salvare all'interno delle cartelle. e a i a a a a a a non me l'ha salvato e comunque all'interno delle cartelle lui salva un file .db per tenere nota di tutte le modifiche fatte e quindi incide ovviamente sul backup, sulla velocità di backup perché ogni volta devi fare una query e inserire un'informazione dentro un db eventualmente se io voglio farmi ovviamente se voglio fare una modifica vi consiglio di effettuare un backup di questa cartella, esportarla e poi potete eventualmente scriptare qualcosa a livello di comandi, esiste c'è il comando reg che permette di aggiungere le chiavi direttamente con un file .bat quindi potete fare un utilizzo di questo utility presente anche nella versione Windows 2012 è già presente faccio vedere anche il comando questo vi può essere sicuramente d'aiuto per fare uno script eventualmente per poter disattivare permette di inserire delle chiavi fare le query cancellare le chiavi copiarle fare un ripristino quindi questo qua è una funzionalità utile per il nostro scopo di inserire nel file di registro direttamente con uno script le chiavi che possono essere utile per disattivare questa funzionalità di verifica integrità quindi possiamo inserirle o anche cancellarle per cancellarle basta fare utilizzo di questa chiave delete vi faccio vedere il comando semplicemente scrivere il percorso della chiave seguito in basso selezionale questa parte quindi da qui in avanti vi faccio vedere anche direttamente usando i sistemi tipo un RMM oppure uno script di sistema pianificato con le attività di Windows oltre questo vi dico anche che ci sono anche altre funzioni disattivabili Cortis avrebbe visto anche la possibilità di disattivare un altro parametro che è presente nella cartella questo test questa cartella .forensis che è stata inserita per salvare i dati di stato della macchina quindi salva sulla destinazione e fa dei test all'inizio del backup che serve per capire ma con gli dati di indagine sono i dati del sistema che sono salvati dentro un file zip che conservano esattamente la situazione del sistema quindi non non so i volumi critici i processi attivi questa informazione anche questa è impegnativa diciamo che non porta via in alcuni casi possono essere informazioni che io potrei decidere di non volere salvare sulla destinazione e quindi esiste anche una chiave per disattivare questa funzionalità che posso anche farvi vedere che è un suggerimento che mi ha dato direttamente Cortex e c'è anche qui una chiave che mi permette disattivare completamente la funzionalità che si chiama Cyber Black Box oppure i test singoli quindi per chi è interessato a ricevere questa informazione esiste anche l'opzione per sbloccare completamente questa funzionalità quindi disattiva come impegno quindi elimina anche questa cartella .forensis questo dice che il catalogo ovviamente non può essere eliminato ma è il catalogo del backup quindi vi faccio vedere come va a impattare c'è modo di farsi uno script eventualmente per inserire dentro le chiavi o poi per eliminarle eventualmente uno potrebbe utilizzare gli script prima di un backup e dopo un backup tenete conto che questa fase di esecuzione del backup lui ha già in pancia le chiavi e quindi non accetta la modifica potrebbe essere utile il tema di un backup e eliminare le chiavi perché c'è in programma un secondo backup che avrà bisogno di questo test integrità quindi si possono inserire ma bisogna tenere conto che l'azione viene eseguita solo prima lui fa un check prima di lanciare lo script quindi la modifica della chiave non ha cambiamenti quindi io se inserisco la chiave lui non la prende in considerazione perché il motore non l'ha caricato ancora in memoria lo stato della funzione di disattivazione di integrità quindi potete usare e inserire gli script che ho fatto qua potete inserire anche dentro qua però bisogna trovare un modo per innescarli dentro la vostra sequenza di job ok, diciamo che ho detto tutto eventualmente per dubbio e chiarimenti sempre a supporto a etac.it io rispondo a tutte le vostre richieste diciamo che vi lascio la possibilità di farmi domande oppure diciamo che ho concluso questo Quick Lab diciamo che fino ad adesso ho analizzato questa problematica con un solo cliente non ho avuto un buon brandamento di richieste però effettivamente se andate a vedere nei vostri backup sui NAS qualcuno si sarà accorto che i tempi sono cambiati quindi questo potrebbe essere un'indicazione utile per mettere a posto la situazione se notate dei tempi molto molto lunghi aspettiamo qualche domanda allora domanda su CryptoSafeGuard valenta secondo te? sicuramente perché la domanda che nasce proprio spontanea perché CryptoSafeGuard è un test che fa ogni volta che esegue un job ma io questo posso evitarlo posso disattivarlo diciamo che disattivarlo ha sicuramente più svantaggi in questo caso perché prevenire il criptovirus si può fare solo prima di un backup quindi CryptoSafeGuard puoi escluderlo puoi disattivarlo però secondo me la latenza o il tempo di attesa è troppo minimale perché si fa solo all'inizio e poi dopo viaggia e è spedito non so dire le tempistiche però se è un Discord molto frammentato molto gestito tanto file che cambiano sicuramente può incidere qualche massimo un minuto di esecuzione o anche più grazie Antonio ok Antonio mandami una richiesta via mail a supporto la mia attenzione io ti mando direttamente le chiavi che ho indicato comunque ci sarà un PDF con anche la registrazione della sessione QuickLab e anche il PDF delle slide quindi tutto disponibile online fa qualche primo pomeriggio ci sarà disponibile tutto grazie a te Antonio allora le cose che possono valentare il backup app ce ne sono anche altre però diventa un contesto di tipo diverso in questo caso qua io lo scenario in questo caso è di un backup su NAS prende anche del tipo di backup su NAS perché se io esempio vado a valutare il discorso della unità single instance store quello che salva i file verifica se sono già presenti nel backup se sono già presenti non crea non fa il backup ma crea un collegamento al file già presente funzionalità presente in questa sezione destinazione allora faccio vedere questo altro dettaglio protezione file ok così così per far vedere le funzionalità ok la funzione funzionalità single instance store che dovrebbe essere presente in questa sezione perché non lo vedo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti dovrebbe essere qui però non c'è comunque la funzionalità presenti creativa quindi alla gestione della destinazione dei dati per non replicarle più volte si può disattivare e questa può incidere perché cosa fa lui? ogni volta che va a scrivere un file deve creare verificare se il file è già presente se è già presente è creare un hard link nella destinazione quindi cosa fa? lui crea non crea un trasferimento di un file ma crea un collegamento a un file già presente questa funzionalità è un ottimo metodo per risparmiare spazio nel disco o nel NAS ma incide nella prestazione sia nella fase di inserimento del file ma anche nella parte di cancellazione perché il hard link per essere rimosso devono essere rimosso tutti i riferimenti ai file già presenti quindi tutti i collegamenti al file devono essere tutti i link devono essere eliminati prima di rimuovere completamente il file quindi determina sicuramente un calo di prestazioni ma non si può fare a meno perché questa è una funzionalità fatta apposta per ottimizzare lo spazio ok ok allora non sono già presenti le chiavi bisogna aggiungerle quindi di default non è disattivata non sono presenti i chiari quindi tu devi aggiungerle o manualmente o come uno script allora il single instance store funziona sui NAS ai scasi ma funzionerebbe anche sui NAS normali diciamo così dipende la funzionalità è presente anche nei NAS che non sono ai scasi perché lui deve avere bisogno di una designazione NTFS in realtà vediamo un po' tensione precedente poter escludere il backup su supporti rimuovibili a piacere Alessandra la tua domanda è un po' complessa allora sì il discorso di mi ricordo il tuo caso che è la possibilità di rimuovere i supporti che hanno eliminato nella versione 12 ho presente il tuo caso adesso non mi ricordo più come è proseguito il caso ma possiamo eventualmente risentirci per analizzarlo tu parli di funzionalità che rimuove i dischi ok non dipende dalla versione di Windows quindi questa funzionalità di disattivazione è per tutte le versioni da Windows 8 Windows 10 tutte le funzioni di Cristian server quindi le chiavi vanno semplicemente aggiunte alla configurazione Alessandra per questo problema ci possiamo sentire anche via mail possiamo proseguire se non avevo raggiunto una conclusione oppure lo aggiorniamo chiediamo il vendor e se vanno aggiunte e se vanno aggiunte sullo script mandate una mail a supporto.etaca.it e io vi mando direttamente vi scrivo direttamente il testo dello script ok diciamo che ci sono altre domande possiamo dire che abbiamo concluso questo Quick Lab ovviamente questo Quick Lab ringrazio il contributo di quest'utente che mi ha aperto il caso fatelo assolutamente per ogni richiesta in caso supporto potrebbe essere un'informazione utile per fare anche un'attività di Quick Lab quindi grazie per la vostra collaborazione ok portiamo a termine questo Quick Lab io vi ringrazio e al prossimo evento buona giornata per la vostra